Musica Lavorare insieme, collaborare per il bene comune è fondamentale e questo stile sinodale è testimoniato dalla presenza di persone che appartengono a diversi orizzonti culturali, sociali, politici e anche ecclesiali e che oggi sono qui con voi. La fedeltà alla democrazia è da sempre un tratto distintivo delle ACLI. Oggi ne abbiamo tanto bisogno. Democratica è quella società in cui c'è davvero un posto per tutti nella realtà dei fatti e non solo le dichiarazioni e sulla carta. Custodendo le parole pronunciate da Papa Francesco il primo giugno di quest'anno durante l'udienza generale alle ACLI nazionali si è tenuto a Verona presso il Teatro Fonderia Aperta il 27esimo congresso provinciale di ACLI sul tema Il coraggio di fare la pace. Due giorni di riflessione su democrazia, comunità, partecipazione, lavoro, dignità spirituale e futuro. Un congresso che ha poi portato alla elezione dei delegati per i congressi regionale e nazionale. Grazie per essere qui. Diamo avvio ufficialmente ai lavori del 27esimo congresso provinciale delle ACLI di Verona. Il tema del congresso? Abbiamo voluto innanzitutto un congresso in due giorni per avere tempo per confrontarci e riflettere insieme sul tema della pace. Pace che è un fondamento dell'azione sociale delle ACLI e che è la base che ci indicherà ai prossimi 4 anni il terreno su quale vorremmo lavorare. Noi pace ne intendiamo non solo l'assenza di conflitti ma ne intendiamo azione sociale sul territorio diminuzione delle disuguaglianze diminuzione dei vari divari che ci sono da quello economico a quello culturale a quello sociale. Queste sono le basi dell'attività delle ACLI. Ottant'anni di storia non si possono dimenticare ci hanno dato un percorso noi cerchiamo solo di ampliarlo e di attualizzarlo secondo il contesto in cui ci troviamo. Molte le persone intervenute a cominciare dal Vescovo Domenico Pompili che ad ACLI ha consegnato indicazioni e un compito per il cammino futuro. Aumentare il capitale sociale che significa aumentare la possibilità per la gente di vivere non separatamente ma insieme promuovendo tutta una serie di iniziative che facciano sentire le persone meno isolate e più in connessione perché oggi, in fronte alle sfide nuove e talora drammatiche che siamo chiamati ad affrontare l'individuo da solo è ancora più debole mentre c'è bisogno di trovare delle forme e le ACLI in questo sono maestre per poter coinvolgere in maniera collettiva la società. In questo, stimolato dal Presidente Bolcato si è parlato anche dello stile di vita cristiano delle ACLI, quali devono essere le sue caratteristiche? Sicuramente quello di sottolineare del cristianesimo la sua dimensione sociale perché il cristianesimo non è mai un appello individualistico a un singolo che deve salvarsi l'anima ma è sempre un guardare al bene comune e al tempo stesso la capacità di sapere rispondere alle nuove sfide che la società di oggi si trova ad affrontare non in maniera emotiva, assecondando letture che talora sono un po' costruite ad arte ma sapendo mostrare quel di più che il cristianesimo regala soprattutto nella capacità di integrare i diversi, i lontani le persone che vengono abitualmente scartate. Il Vescovo Domenico ci ha dato un impegno importante ci ha detto che dobbiamo continuare a valorizzare il capitale sociale è un compito gravoso per le ACLI che comunque hanno gli strumenti e i mezzi per poterlo fare grazie soprattutto alla presenza sul territorio alla professionalità degli operatori ai tanti volontari che ci aiutano ogni giorno per dare senso alla vita delle persone più in difficoltà alle fasce deboli della popolazione ci ha dato anche un impegno di ritornare nelle parrocchie di dialogare con le parrocchie ecco noi questa cosa la facciamo già sicuramente lo dovremo fare in maniera più incisiva e più efficace le due azioni del fare e del pensare non siano separate e che non se ne giovi nessuna delle due ad essere distinte per cui sicuramente le ACLI si muovono e agiscono nell'ambito sociale ma non senza aver anche potuto considerare attraverso la riflessione anche scientifica quello che sta accadendo i lavori sono quindi proseguiti ragionando sul tema dell'essere generatore di passione prendendo spunto dalla storia anche recente di ACLI e confrontandosi sui temi di oggi e delle sfide di domani noi guardiamo la storia in particolare delle ACLI di Verona noi scopriamo una completezza di intervento nell'ambito sociale che è caratteristica speculiare di questa provincia dal mondo contadino allora coinvolto in lotte intense per superare la mezzadria al mondo operaio coinvolto nelle lotte contrattuali del 69 e alla rivendicazione dei diritti che poi lo Statuto dei Lavoratori riconobbe alla casa grande problema irrisolto ancora oggi ma che allora si manifestava con molta determinazione per il flusso di centinaia di migliaia di persone verso la città alla sanità, alla scuola insomma la presenza delle ACLI di allora fu un monito anche per oggi nel dispiegamento di una grande iniziativa di mobilitazione sociale le ACLI devono semplicemente continuare sulla traiettoria della loro storia che è una storia di serietà e di profezia insieme di capacità di essere propositivi nelle riforme ma anche di essere molto vicini alle persone saper leggere i loro bisogni saperli tradurre in desideri di bene in voglia di diritti in capacità di protagonismo delle persone dei cittadini se sanno fare questo se sanno essere questo anche dentro la Chiesa quindi un'associazione che sta come ha detto il nostro Presidente davanti al Papa a tenere aperta la porta della Chiesa un'associazione inquieta ma profondamente in ricerca di fede e di verità avranno fatto quello che serve per servire la Chiesa e il Paese Punto nodale in tutta questa riflessione è il confronto dialogante con la politica nell'ottica di una crescita della democrazia nel nostro Paese per la quale Acli potrà avere un ruolo determinante Un altro tema è il concetto di comunità che rimane centrale nella visione sociale aclista e deve passare però da un sistema associativo a comunità associativa come questo passaggio? E' questo il passaggio più delicato che dovremmo compiere le Acli sono un insieme complesso di strutture associative di servizi, di attività ecco il passaggio che proporò io è di passare proprio da sistema associativo che implica accordi di equilibri per garantire a tutti uno spazio e un percorso a comunità associativa che implica ad ogni piccolo componente piccolo grande componente dell'associazione di rinunciare un po' da una parte di sé per contribuire a un bene più grande questo è un concetto anche che vale per la società noi siamo abituati ad una società regolata dai rapporti economici regolata da regole ferri stringenti ecco se tutti imparassimo a rinunciare a un pezzettino di noi stessi per un bene più grande sicuramente avremo una società più comunità e più in grado di far fronte a tutti i problemi che oggi dobbiamo affrontare un passaggio sicuramente delicato da chiedere anche al mondo economico dell'impresa e della politica che sono soggetti ai quali ci si rivolge proprio per creare quella rete di comunità di relazioni di cui tanti progetti che voi siete stati promotori hanno bisogno con il mondo economico già lavoriamo con alcune realtà del mondo economico che hanno capito l'importanza sociale del fare impresa ecco vorremmo che ci fossero più imprese che capiscono la loro importanza nella dimensione sociale che non vuol dire erogare semplicemente soldi ma vuol dire riconoscere i diritti dei lavoratori vuol dire riconoscere che sei all'interno di un contesto e in questo contesto anche tu devi contribuire alla realizzazione di questo bene comune al mondo della politica ieri nel nostro congresso abbiamo avuto degli assessori abbiamo avuto dei sindaci presenti eccetera al mondo della politica dobbiamo chiedere più coraggio coraggio di affrontare i temi dobbiamo chiedere più sensibilità più attenzione alle fasce deboli della popolazione meno probabilmente meno anche slogan e più azione concreta abbastanza semplice per noi raccontare questo tipo di relazione perché ci siamo presentati come proposta politica con una coalizione che abbiamo chiamata rete perché crediamo nella rete di relazioni di istituzioni di persone che devono essere la base delle comunità e poi abbiamo istituito per la prima volta non solo a Verona ma nelle amministrazioni l'assessorato specifico per il terzo settore proprio perché riteniamo che sia compito dell'amministrazione mettere attorno a un tavolo tutte quelle realtà che di fatto sono presenti concretamente sul territorio e che spesso mancano di coordinamento o mancano di efficacia negli interventi perché magari ognuno riesce a rispondere individualmente alle proprie esigenze alle proprie richieste e questo ovviamente disperde energie quindi questo ruolo ce lo siamo presi ci crediamo in realtà come le ACLI poi che hanno un respiro nazionale ovviamente non fanno che essere garanzia anche di efficacia di condivisione di valori che rende tutto più semplice il terzo settore è un bel laboratorio secondo me è un bel laboratorio dove capisci quanta gente si impegna quotidianamente silenziosamente per cercare di tenere questa società umana cioè di cercare di capire che le relazioni sono importanti che l'intergenerazione è importante cioè nel senso che non c'è una generazione serie A una generazione serie B e ahimè a volte c'è poca consapevolezza da parte della politica dell'importante del terzo settore Verona è una città che deve veramente capire cosa stiamo facendo allora io credo che questa amministrazione abbia portato un modo diverso di lavorare di lavorare insieme facendo delle proposte decisamente innovative se volete e forse anche qualche volta provocatorie in alcuni aspetti però che cercano di cambiare di dare alla nostra città un aspetto veramente europeo Verona non può più essere una città chiusa in se stessa autoreferenziale ha bisogno di aprirsi e quando si apre è una città con delle potenzialità enormi è un mondo di volontariato è un mondo di imprese è un mondo di cittadini e cittadine veramente ricco e generoso io ci tengo a precisare io sono l'assessore alle politiche sociali quello che posso dire abbiamo una rete di associazioni sul territorio di enti sia pubblici che privati perché poi gli enti possono essere pubblici e privati che collaborano insieme e lavorano su quelle che sono le tematiche importanti che afferiscono la vita diretta dei cittadini quindi quello che stiamo facendo è proprio un modo diverso di approcciare le problematiche delle persone ci sono esempi virtuosi di politica nel nostro territorio devono aumentare devono diventare contagiosi questi esempi e soprattutto dobbiamo uscire poi anche dalla facile populismo che ci caratterizza ecco le ACLI chiedono che non ci sia ci sia meno populismo e più sensibilità verso il territorio e verso i problemi del territorio in una dimensione più ampia un amministratore deve avere una dimensione locale ma deve guardare anche il contesto globale in cui si è inseriti un contesto di grandi cambiamenti la settimana sociale di Trieste ci consegna un messaggio importante sul tema della democrazia che va curata ogni giorno va coltivata va gestita con attenzione la democrazia richiede fatica richiede risorse però è il bene più prezioso che abbiamo da un punto di vista civile e quindi deve essere anche partecipativa quindi gli ACLI saranno soggetti principali è fondamentale la partecipazione noi cerchiamo di promuoverla in tutte le maniere che ci sono concesse e che siamo in grado di creare la partecipazione vuol dire dare a tutti la possibilità di poter esprimersi di poter avere un ruolo all'interno della società di poter avere dei diritti di rispettare i propri doveri tutto l'insieme di questo contribuisce ad aumentare la partecipazione creando prospettive concrete dialogando con i soggetti e con i quali ACLI da tempo ha avviato rapporti e collaborazioni il tutto nella logica dell'essere generatori di comunità e di relazioni Al giorno d'oggi la difficoltà maggiore che hanno le persone è quella di stare insieme di incontrarsi e di affrontare insieme le difficoltà che la vita quotidiana gli pone in ambito sociale, lavorativo insomma a 360 gradi le ACLI devono guardare proviamo a guardare alla nostra storia per cercare di reinterpretare quello che sono le sfide appunto e quindi cercare di affrontarle nel migliore dei modi ricreare la comunità è uno dei nostri obblighi e come farlo? Sicuramente mettendo di nuovo al centro la nostra appartenenza anche al nostro essere più profondo al nostro essere cristiani perché è da lì che si trarà il senso vero delle cose che è da lì che noi possiamo essere e fare soprattutto la differenza nel rispetto di altre comunità e di altre associazioni di altre realtà Sfide che vanno affrontate in ambito locale in quel percorso di rete via via sempre più allargato che rappresenta il coraggio di fare pace com'è il titolo di questo congresso? Il congresso di Verona da questo punto di vista è emblematico e significativo tutte le realtà associative del terzo settore le fondazioni bancariche che sono venuti in questi giorni a confrontarsi, a parlare hanno proprio evidenziato la voglia la necessità di stare insieme e di lavorare insieme perché le sfide che abbiamo di fronte sono così importanti e così grandi che nessuno può permettersi di affrontarle da solo certo, ognuno con le proprie specificità Le ACLI celebrano gli 80 anni e si parla tra le varie cose di generare comunità ecco, in questo percorso in questa via in questa prospettiva ACLI e Diocesi Veronese come possono e devono collaborare? Questa è una prospettiva interessante la questione della comunità che le ACLI fin dall'inizio hanno nel loro statuto originario questo vuol dire che il lavoro la democrazia vuol dire che la salute sono tutte questioni sociali comunitarie che vanno in qualche modo affrontate da un noi e non semplicemente da un io dall'altra per noi come Chiesa avere degli adulti che considerano, come dire la loro esperienza di fede la loro appartenenza alla Chiesa il riferimento al Magisterio sociale non come un limite da cui affrancarsi perché laici e quindi devono in qualche modo chiacchierare e parlare con tutti ma come una risorsa io credo che sia assolutamente oggi necessario e importante Rigenerare la comunità significa innanzitutto osservare la realtà con uno sguardo diverso e questo sguardo diverso deriva da una gratitudine della gratitudine di ciò che abbiamo ricevuto da questa sovrabbondanza da questa eccedenza che ci porta a superare noi stessi e incontrare l'altro questo rigenera le comunità allora il tema vero è ripartire dal perché superare 40 anni di individualismo non è facile occorre una fortissima motivazione e poi si può condividere il come e il come è il vero passaggio interessante quando si traduce il perché in azione e come si è tradotto questo passaggio nell'accordo in quello che è il protocollo che avete siglato abbiamo individuato un quartiere di Verona dove in qualche modo ha resistito tuttora i negozi di prossimità che diventano il vero punto di aggregazione di una comunità è la vecchia salumeria che se non vede il tal cliente arrivare si chiede perché e magari fa una telefonata ecco sono quei piccoli gesti dove una comunità si ritrova il pensiero principale è generare benessere quindi generare benessere vuol dire fare bene le cose è un po' il nostro motto e quindi interfacciarci con questa comunità che vuol dire la cittadinanza che vuol dire anche le persone più deboli più fragili a proposito di questo noi già da 14 anni quindi fare bene ma fare anche con continuità non a spot diciamo abbiamo questo progetto che si chiama progetto Rebus Rebus il progetto Rebus vuol dire esattamente veicolare le eccedenze agroalimentari verso un riutilizzo e che non siano gettate al macero la partnership ha l'obiettivo di accompagnare gli utenti gli associati tutte le persone che gravitano attorno ad Acli in un percorso di consapevolezza maggiore rispetto ai temi dell'energia sia i temi più legati alla bolletta domestica quindi tutte quelle informazioni necessarie per prendere scelte anche efficienti da un punto di vista economico in casa sia tutte informazioni legate ai modelli innovativi di autoproduzione energetica in particolare quelli riferiti proprio ai modelli We4Green che noi sviluppiamo il nostro modello di approccio all'energia come azienda è di comunità nel senso che noi sviluppiamo impianti fotovoltaici attraverso l'azionariato diffuso e quindi attraverso la cooperazione avere collaborazioni con realtà come Acli ci permette di intraprendere dei percorsi di sviluppo dei nostri progetti che siano coerenti anche nel metodo con cui coinvolgiamo le persone e avere a che fare appunto con una realtà attrattiva di fiducia come Acli ci aiuta nel far comprendere anche come la transizione energetica possa essere un processo condiviso Si parla di generatore di passione in questo caso generazione di comunità ma anche di relazioni nel caso specifico qual è il contributo? Il contributo è quello di Adoa l'associazione diocesana delle opere assistenziali che su Verona intesse proprio relazioni e crea sinergie le Acli sono una parte fondamentale di queste sinergie di queste relazioni in particolare sul terzo tavolo di lavoro di Adoa che è quello della grave marginalità e della generazione di nuovi progetti per rispondere alle nuove esigenze è un tema questo sul quale c'è molto movimento a Verona voi siete tra i promotori di tante iniziative recentemente c'è stato anche un incontro interessante relativo al terzo settore insomma qualcosa si muove in modo concreto qualcosa si deve muovere in modo concreto perché siamo dentro ad una tempesta perfetta ne abbiamo parlato ieri al 3-1-1 con il secondo evento di lancio dei poeti sociali la settimana scorsa a Villa Buri Rigeneriamo Libertà e ne abbiamo parlato con tutti gli enti che hanno partecipato a questo nuovo tavolo una novità assoluta per Verona e per l'Italia che è l'Hub per il terzo settore dall'università al comune gli enti del terzo settore tra cui anche le ACLI a Doha Conf Feder Solidarietà davvero tanti amici tante persone che rappresentano tanti lavoratori e tanti progetti è essenziale lavorare insieme il rapporto che diamo è quello di un centro di servizio che si relaziona con tutte le associazioni abbiamo più di 230 soci ma sono molte di più le associazioni di tutta Verona e anche provincia che cercano insieme di costruire un percorso di condivisione coinvolgendo i giovani famiglie e comunità per costruire una società più inclusiva quindi è un rapporto proprio di condivisione di supporto di crescita orientando veramente a valori di condivisione e promozione del volontariato quali sono le regole per attivare e dare ancora più slancio a questo le regole sono quelle prima di tutto di partecipare in un atteggiamento di ascolto perché quello che succede non lo decidiamo noi ma è dall'esterno possiamo cambiarlo ma dobbiamo capirlo e soprattutto le regole è quello che lavorando insieme che vuol dire non pensare che va bene tutto quello che pensiamo noi ecco perché è importante ACRI ma anche non solo tutte le altre realtà sono contributi necessari anche per dirigersi verso modalità diverse solo così potremmo cambiare e seguire quelle che sono le evoluzioni storiche che stanno interessando tutte le nostre comunità quello che io mi aspetto dalle ACRI è che siano quel punto di riferimento che riesce in qualche maniera a mettere insieme il terzo settore mettere insieme non perché va bene la compagnia ma perché oggi c'è bisogno credo di riflettere su quello che facciamo e abbiamo bisogno di rappresentare non tanto i nostri volontari che ognuno si fa rappresentare da chi vuole ma rappresentare quelli che sono le persone a cui noi ci rivolgiamo quelli che ci fanno sapere quali sono i loro bisogni in un periodo in cui c'è sfiducia e devo dire in qualche caso se la merita nei confronti della politica io credo che il legame che può rappresentare che possono rappresentare associazioni come la nostra come le ACLI che sono a contatto con la realtà viva anche quella problematica sia fondamentale anche per le istituzioni infine ma solo come cronologia tematica proiettata verso il domani il ruolo dei giovani determinante perché possono essere coinvolti diventando protagonisti delle azioni di oggi coinvolgere i giovani convincere i giovani in un numero maggiore rispetto all'attuale a intraprendere questa attività anche di dedizione agli altri il futuro è un tema delicato per le ACLI e noi lo affronteremo partendo da tre presupposti il primo presupposto è la formazione la metteremo al centro la formazione sia del sistema dei servizi però la formazione dei circoli dei volontari il secondo tema sarà il tema dei circoli per cui la presenza nel territorio che andrà ampliata il terzo tema diventa quello dei giovani però non intesi come una riserva da coltivare a cui garantire spazi eccetera i giovani vanno coinvolti con la loro modalità che non è la stessa di noi adulti sono sicuramente meno costanti di noi nella presenza però sono in grado di avere dei forti slanci di partecipazione ecco noi dovremo toccare i tasti giusti per permettere questa forte partecipazione giovanile la motivazione la motivazione la motivazione le motivazioni sono tre la passione che dovremo accendere che vogliamo accendere con questo congresso che dovremo accendere nei giovani è una passione che dobbiamo riaccendere anche noi tante volte davanti alle difficoltà della vita il secondo tema è la comunità le ACLI devono proporsi anche come comunità cioè chi entra nel percorso ACLI deve sentirsi accolto deve sentirsi valorizzato deve sentirsi a casa ecco questo è un tema anche questo è importante il terzo è quello delle relazioni se non costruisci relazioni sicuramente non avrai neanche i giovani che ti seguiranno o perlomeno si avvicineranno a questa esperienza i lavori congressuali sono proseguiti con le elezioni dei delegati per i congressi regionale e nazionale il cammino dei prossimi anni a Verona di ACLI è avviato le sfide che ci attendono sono grandi ma le ACLI forti della loro storia e dei loro valori sono pronte a raccoglierle e a scrivere un nuovo capitolo del loro futuro accompagnate dalle parole di Achille Grandi a nuovi tempi corrispondono nuovi bisogni quindi nuove attività il terreno sembra già preparato si attende che i solchi siano compiuti in profondità ed il seme possa rifiorire ubertoso e dare frutti copiosi di giustizia di amore di pace e di bene al lavoro dunque che Dio ci assista nell'ardua fatica grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti